Gran successo anche quest'anno per i Blue Volley Summer Camp, tre date, quattro settimane, quasi tutto sold out. Assolutamente sì, la quarta edizione dei Summer Camp per Blue Volley, che quest'anno oltre al tradizionale camp di Bressanone, camp tecnico che ormai è esalito ancora dal mese di aprile, ha giunto ben due settimane, una al mare vicino a Rimini, indor della Palavolo si farà anche bici voglio ovviamente in spiaggia e poi la settimana, la grande novità di quest'anno a Baselga di Pinè, una settimana multisport dove ci sono ancora qualche posto disponibile dove oltre alla Palavolo che tutte le mattine i ragazzi faranno Palavolo in palestra, possibilità di altre attività alternative come tiro con l'arco, arrampicata, la pagiata trekking naturalistica, il patinaggio sul ghiaccio e sempre seguito appunto dai nostri istruttori, quindi vi aspettiamo ancora per gli ultimi posti disponibili a Baselga di Pinè e per l'unico posto disponibile per quanto riguarda il mare per le nostre settimane di Summer Camp. Ora sono ormai sold out da mesi, da mesi, quest'anno abbiamo addirittura aumentato il livello tecnico perché si sono intensificati gli spazi riservati appunto agli allenamenti e lo staff è di eccezione, basta citare che sarà con noi il nostro vice allenatore Gian Giancarlo D'Amico per tutti i 15 giorni oltre allo storico nostro direttore tecnico Diego Frisi, poi saranno affiancati dai nostri istruttori del storio giovanile e anche da allenatore di serie A2 per quanto riguarda la Palavolo femminile, quindi tanta qualità tecnica, ogni anno ci miglioriamo sempre di più e speriamo appunto di accontentare tutte le tantissime richieste che abbiamo da tutto il nord Italia. Grande occasione anche per chi rimane in città perché siamo proprio al Blue Volley Sporting Club e questa sarà la casa dei City Camp invece, quattro settimane a luglio che prevedono cosa? Il Blue Volley non si ferma mai, dopo mare e monti anche per i mesi di luglio proponiamo quattro settimane di multisport quindi la nostra nuova casa allo Sporting Club dove i ragazzi oltre che far palavolo tutti i giorni, ovviamente il camp è di Blue Volley quindi la palavolo, la frada padrona, ci sarà anche la possibilità di provare altre discipline sportive, dal tennis, al calcio 5, all'atletica, ai giochi ludici e tutto dalle 7 e mezza della mattina fino alle 18 con pranzo interno qui allo Sporting con la cucina appunto del ristorante del nostro Sporting Club quindi un'offerta completa, ampia, in completa sicurezza per i genitori e noi vi aspettiamo per le quattro settimane di luglio anche per i City Camp oltre che per i Summer Camp già anticipate. Iscrizioni entro quando per i City Camp? Iscrizioni entro i City Camp entro il 15 giugno, entro il 15 giugno quindi abbiamo ancora una decina di giorni per completare le eventuali iscrizioni, basta chiamare in segretaria e vi arrendate tutte le informazioni al City Camp e anche al Summer Camp kit esclusivo Blue Volley Summer Camp e Blue Volley City Camp.